Buongiorno da WTV News, oggi 25 febbraio è San Gerlando ed è la giornata internazionale della commedia dell'arte che intende promuovere la conoscenza di questo linguaggio teatrale universale. In tutto il mondo si ricorda il 25 febbraio 1545, giorno in cui a Padova si è costituita ufficialmente, con tanto di atto notarile legale, la prima compagnia di comici di professione al mondo. Oggi è anche la giornata nazionale dell'ardo e la giornata internazionale del creme chowd, zuppa originaria del New England preparata con vongole, patate, bacon e panna. Tra i nati oggi nominiamo George Harrison, 1943, Benedetto Croce, 1866 e Teo Teocoli, 1945. Tra i scomparsi ricordiamo invece lo scrittore e drammaturgo statunitense Tennessee Williams, 1983.